buongiorno sure e buongiorno sure benvenuti in questo nuovo video come state spero tutto bene oggi video in collaborazione con stilevana allora non sono sicura che si dica così oppure può essere stylevana però ve lo scrivo qua così non ci sbagliamo comunque è un sito di skin care ma non solo perché potete trovare anche prodotti make up allora loro mi avevano inviato dei prodotti che adesso vi dico che cosa ne penso le usati quest'estate quindi agosto è un po di settembre e vediamo che cosa mi avevano inviato allora prima di tutto questa crema di questa crema a viso giorno che si deve di un tri penso che si dica così comunque io ve lo scrivo sempre qua e si chiama e art lea 100 cream allora è stata una crema con un profumino di erbe è in gel ed è stata perfetta per l'estate con il caldo quando studiamo soprattutto io che sudo veramente tanto per voi lo sapete questa mi ha salvato la vita perché è molto leggera vediamo se riesco a tirare fuori un goccino perché appunto l'ho terminata però non si riesce un po nel tappino infatti la volevo aprire la volevo tagliare però volevo fare prima al viso cosa ne penso quindi mi è piaciuta tantissimo sulla pelle si asciugava subito e idratante ma non troppo appunto è stata perfetta per il fatto che faceva caldo è stata perfetta e niente è in gel era super facile da stendere molto piacevole devo dire è il suo lavoro lo fa benissimo poi mi hanno inviato eccolo qui guardate quanto è bello questo è un siero per il viso all'acqua di mare io sono uscita pazza quando sento all'acqua di mare e poi ho pensato ma se c'è acqua di mare secca la pelle e invece no non secca assolutamente la pelle è un siero bellissimo anche questo non ce n'è più ma non sento nessun odore alla sua pipettina quindi si preleva benissimo fino all'ultima goccia devo dire e niente mi sono trovata bene è ottimo e ve lo consiglio ormai l'estate finita però guardate i sieri comunque le creme di questa marca perché sono veramente top cioè io amo la skin care coreana lo sapete anzi vi devo anche dire che ha un codice sconto che vi scrivo qui quindi approfittatene niente anche questo è stato un prodotto bellissimo che mi è piaciuto tantissimo e niente poi allora di questa pace ne ancora un pochino che io sto usando quando c'è il sole per uscire perché sapete che porto il mio cagnolone la porto nei campi se c'è il sole io sono proprio sotto il sole quindi uso la protezione solare anche in inverno se è una giornata di sole ovviamente se piove no quindi questa è della marca scinic e si chiama enjoy è una super mild sun essence con sp spf 50 e più pia che onestamente non so che cosa voglia dire pia quindi perché poi ci sono anche 545 stelline quindi ditemi voi ditemi voi se non sapete che cosa vuol dire allora questa crema io l'ho usata appunto l'ho usata e la sto continuando a usare per il viso ne basta poca da una sensazione di freschezza molto piacevole soprattutto quando fa caldo ma io me la gusto anche adesso molto piacevole non fascia bianca dunque l'applicavo anche più volte ma però mi aiutavo anche con questo che questo l'amato tantissimo è piccolino perché è un 20 ml ragazzi ma dura tantissimo perché l'ho usato tutti i giorni della mia vacanza sul viso ma lo mettevo anche sulle braccia perché io tante macchie solari sulle braccia e quindi volevo una copertura totale per non prendere più il sole per non macchiammi più questo è sempre dell'addio 23 scusate se sbaglio e si chiama urba 6 shade ed è un spf 50 con pia e 45 stelle perché non ne vedo ed è fatto così vedete fatto così molto comodo ha un profumo di eucalitto mentolo e caprico comunque di menta un po appunto una menta medicinale e niente questo si spalma così vedete in trasparente quindi io una volta che mettevo questa crema la se avevo ne avevo bisogno soprattutto naso e quale guanciotte e il mento dove magari ho delle macchie che non voglio appunto che peggiorino oppure qui perché io qua nella fila del collo delle macchie quindi facevo così così e tutto il decollete e ce n'è ancora quindi adesso così ci sto terminando questa qua e poi metterò questa perché comunque questa queen col make up se dovete toccare non va bene perché rimane un pochino grassa che appunto a me in estate mi va bene perché il sole comunque asciuga poi magari ti bagni sale asciuga quindi un po di grasso a me piaceva averlo sul viso però questo va è una cosa che va a persona da persona a persona dunque anche questa ve la consiglio sono rinfrescante anche tutte e due questi prodotti dicono che ti abbassa la temperatura corporea corporea di 1 2 gradi possiamo dire comunque si trova definizione giusta ve la scrivo mi hanno inviato tre cose e make up quindi il primo è della amuse e ed è il numero vabbè ragazzi numero che lo scrivo qui perché non lo vedo poi invece abbiamo sempre della muse abbiamo un rossetto liquido questi e questo amuse il jelly ever after e sono adesso vi faccio vedere subito guardate quanto è bello questo guardate è stupendo allora questi qua li ho usati poco non tantissimo perché comunque da fastidio la roba sulle labbra al mare quando lo mettiamo vedete questo è proprio guardate quanto è bello questo colore è bellissimo che al momento quando lo mettete sembra trasparente bello e il pack è stupendo poi non dà fastidio sulle labbra è molto confortevole perché è super sottile poi invece abbiamo questo qui che anche questo guardate quanto è bello il pack è troppo bello e guardate quanto è figo è fighissimo questo è un rossettino però anche qui è molto molto è più tipo burro cacao vedete con questo leggero colore che un po lucidino tipo burro cacao infatti li sto usando tantissimo adesso e poi come ultimo questo qui anche questo molto bello guardate molto fine come pack e eccolo qua guardate vedete sembra vabbè siamo più o meno sulla stessa tonalità più o meno un po più scuro questo però tutte e tre sono comunque molto confortevoli molto sottili quindi mi sono piaciuti tantissimo e ve li consiglio allora questi sono tutti i prodotti che mi hanno inviato ovviamente in ogni prodotto che vi parlo vi scrivo sotto tutte le loro indicazioni vi ricordo di visitare il sito per guardare questi prodotti ma tanti altri prodotti che ovviamente hanno io ringrazio tantissimo l'azienda ma non dimenticatevi che c'è il mio codice sconto che vi scrivo qui quindi mi raccomando lo sconto che magari non è molto ma fa la differenza nel totale o no ditemi se questi prodotti vi sono piaciuti se per caso avete già acquistato su questo sito fatemi sapere che cosa avete preso che magari farò anche un acquistino magari usano anche il mio codice sconto quindi ora il video finisce qui vi aspetto al prossimo video e mi raccomando statemi bene ma prima di andare via e raga facciamo festa ciao buona skin care a tutti ciao 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 ciao